ragazzi ho perso un bullone ho sentito una vibrazione mentre andavo cazzo ho perso un bullone normale che me ne sono accorto ma non ho capito da dove arriva eccolo qua, bullone, l'ho perso io in più ho trovato due bulloni che tengono la forcella al blocco motore che sono di nuovo svitati quindi adesso mi tocca riavvitarli però non so se sto bullone è importante o sono un po' preoccupato che cazzo di bullone è questo qua non lo so io meccanico di merda ho dato 2.200 euro ti ho dato per mettermi a posto il motorino e perdo i bulloni per strada bullone ok Ok. I bulloni della forcella li ho avvitati ma ora vado a 25 all'ora fino a destinazione perché mi sa che c'è qualche cosa che non va, non so, speriamo di non perdere la ruota per strada almeno, altrimenti mi tocca andare con una ruota sola, il tia non è bello, oddio, monoruota va bene ma, almeno sulla ruota posteriore, io invece dovrei fare un monoruota con la ruota anteriore, insomma vabbè, speriamo che tutto vada bene, per il momento vi saluto, qui c'è il bullone, speriamo, ciao.